Abbiamo tutti cambiato delle abitudini, sì anche nel mangiare, ho scoperto per esempio il delivery con la consegna o il take away. Uscire a prendere qualcosa di buono mi piace, mi fa pensare ad alcune azioni per rispettare meglio l'ambiente, azioni che piacevolmente stanno diventando abitudini, come dire, sto bene con me stessa e anche con gli altri. Quando devo prendere qualcosa fuori, alle volte chiamo io, però mi piace e mi piace molto venire di persona. In questi mesi sono stata più attenta a tante cose, tutto deve diventare più prezioso, anche gli imballaggi usati per proteggere e trasportare il cibo che compro possono diventare una risorsa invece di un rifiuto. Quello che posso lo riutilizzo e quando non serve più differenzio e riciclo. Prendersi del tempo per pensare anche in queste situazioni può fare la differenza per me stessa e anche per l'ambiente.